Una sentenza che cancella responsabilità sui fatti gravissimi di Genova, si può accettare? Una sentenza che non poteva essere altro che così. È da sempre ormai chiaro che la condanna di quello che allora era il capo della polizia, promosso il capo dei servizi segreti e recentemente diventato sottosegretario alla sicurezza della Repubblica era impossibile. Coperto e protetto dall'insieme dell'arco parlamentare attuale è al di sopra e al di fuori della legge e questo mi fa temere molto per la sentenza della Cassazione in attesa per il 15 giugno dove vi è il rischio che tutti quanti i responsabili della notte cilena della Diaz vengano assolutamente assolti. Stiamo parlando anche qua del GOTA delle forze di polizia italiane. La cosa più sconcertante leggendo le motivazioni della sentenza è che i giudici non entrano nel merito dell'accusa per cui era stato condannato De Gennaro in appello, ossia l'istigazione alla falsa testimonianza del questore Colucci con l'obiettivo di tenersi fuori da qualunque vicenda collegata alla Diaz. La Cassazione non entra nel merito di questo. Si limita semplicemente a dire che non c'è alcuna dimostrazione che il mandante dell'operazione della Diaz fosse De Gennaro. Ma non era questo il tema in discussione sul piano giuridico. Il tema in discussione è vero o non è vero che il questore Colucci ha incontrato De Gennaro a Roma subito dopo la sua prima testimonianza in tribunale. E' vero o non è vero che poi tornato a Genova Colucci ha modificato la sua testimonianza e al telefono dove è stata intercettata ha detto che questa modifica della testimonianza aveva avuto il supporto, i complimenti di De Gennaro. E' vero o non è vero che la modifica della testimonianza di Colucci era dovuta al fatto di tenere fuori De Gennaro dai fatti della Diaz. Questi erano i temi sui quali si doveva esprimere la Corte di Cassazione. Non dimentichiamo che De Gennaro stesso non nega di essersi incontrato con Colucci e di aver discusso le vicende processuali al fine di arrivare a una comune consonanza alla ricerca della verità. Ora la consonanza nella ricerca della verità la devono trovare i magistrati, non la devono concordare fra di loro testimoni e potenziali testimoni. Come su Piazza della Loggia c'è una verità storica e non si può rivela anche a una verità giudiziaria? Per quanto riguarda i fatti di Genova in senso lato una verità giudiziaria c'è. Nelle aule del Tribunale c'è stata una ricostruzione estremamente precisa di quanto è venuta la Diaz, di quanto è venuto a Bolzaneto. C'è una ricostruzione precisa di chi ha telefonato la mattina del 21 luglio dicendo che bisognava formare i patuglioni, che bisognava restare il maggior numero di persone possibili. Si sa chi ha partecipato alla riunione e chi ha deciso l'assalto alla Diaz, si sa come sono state inventate delle prove false, eccetera. La verità c'è su Genova, non c'è la giustizia, non sono stati condannati definitivamente i responsabili. Su Genova c'è una frattura totale tra il ruolo svolto da una parte della magistratura e i pubblici ministeri e il ruolo svolto della politica, che invece ha cercato in tutti i modi di cancellare quelle responsabilità. Certo è che in termini di giustizia le vicende di Genova si aggiungono a tanti altri misteri italiani. Quando parliamo di Genova non parliamo solo del passato, questo è importante saperlo, non parliamo solo di una giustizia che non c'è stata. Parliamo del fatto che i maggiori responsabili delle violenze poliziesche di Genova oggi sono ai vertici dei servizi segreti, della polizia. Sono coloro che, tra virgolette, dovrebbero tutelare i diritti dei cittadini, i nostri diritti nei prossimi mesi, negli prossimi anni, garantendo le libertà costituzionali. Ora, se l'esempio è quello della notte celene alla Diaz, credo che ci sia molto da preoccuparsi. Grazie a tutti.